Abbiamo organizzato questo incontro di coordinamento perché, come sapete, è uscita la nuova delibera di giunta sui vigneti eroici e storici e quindi vogliamo condividere con voi alcuni ragionamenti. L'incontro si svolgerà in questo senso e tra poco darò la parola al dottor Zilibotti che vi spiegherà generalmente la razio della delibera e poi invece il dottor Crisi Giovanni entrerà in dettaglio più nella presentazione e nelle varie logiche. Dopodiché avremo una dimostrazione pratica anche con l'aiuto dei colleghi di engineering informatici per cui analizzeremo uno o due casi quello che è necessario facendo proprio delle prove pratiche dimostrative. E infine poi lasceremo un ampio spazio alle vostre domande, ai vostri dubbi e ai vostri commenti, quindi è un momento di confronto e invito tutti a fare presente sin da adesso eventuali dubbi o criticità che riscontrate. Quindi io passerei subito la parola a Zilibotti che vi illustrerà la razio di questa delibera. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie Renzo, il nostro dirigente responsabile, il dottor Renzo Armozzi. Oggi sì, piuttosto che scrivervi le solite mail molto lunghe e a volte anche troppo, abbiamo preferito organizzare l'incontro che è un po' che non ne facevamo CA e STACP insieme. Per questo argomento che riguarda soprattutto i CA, i colleghi di STACP, un pochino meno perché hanno un ruolo abbastanza marginale. Dopo mesi che era pronta di fatto la delibera, siamo riusciti ad avere i vari chiarimenti ultimi da Ministero sull'applicazione di questa novità che è stata introdotta dal testo unico del vino, e solamente in Italia, questi vigneti eroici storici e quindi noi abbiamo messo a punto una delibera che consenta la presentazione delle domande. Il vigneto eroico storico, dopo il collega Giulio Crisi Giovanni, vi illustrerà nel dettaglio quali sono i requisiti per accedere. Di fatto un vigneto eroico è eroico perché è eroico fatto in quella zona, consentitemi questa banalizzazione. Lo storico perché di solito è un vecchio vigneto fatto con le vecchie forme di allevamento tradizionali di una volta in quel contesto. Poi in realtà vedremo che dall'idea originale qualche cosina è cambiato. Però diciamo che noi abbiamo dato con questa delibera attuazione e abbiamo aperto il bando, anche se non è proprio un vero bando, diciamo la raccolta delle domande di riconoscimento già da giovedì o meglio mercoledì sera con la messa in produzione, nel software Silas che vedremo dopo con il collega Draishi, Francesco, che ci illustrerà uno o due casi pratici proprio di caricamento della domanda. Ve lo ritrovate nello stesso software che usate per fare le domande di stirpazione anziché reimpianto. Quindi nel menu a tendina troverete, forse l'avete già vista, la domanda di riconoscimento di vigneto eroico e storico. Abbiamo cercato come linea nostra di rendervelo una compilazione il più possibile automatizzata, cioè in modo tale che voi non dobbiate andare a cercare in mezzo a 300 cose diverse, pendenze, altitudini, zone. No, abbiamo nel limite del possibile, vi abbiamo messo a disposizione a voi, perché poi alla fine le domande le fate voi per conto dei viticoltori, i vari requisiti. non potevamo, quindi sgombero subito il campo di eventuali domande, fare un riconoscimento d'ufficio che potenzialmente in questo caso ci poteva stare. Non lo potevamo fare perché il decreto prevede che... Dica, ti passo un'altra chiamata. Avete... Ah, signor Pulcino, ha il microfono aperto, quindi solo per quello. Buongiorno e ben arrivato. Dicevo, non è stato possibile fare... Non è stato possibile fare un riconoscimento automatico perché il decreto prevede che i viticoltori facciano una domanda, ma perché non è detto che uno voglia essere riconosciuto, a mio avviso, come vignette eroico e storico. Sappiamo che in passato ognuno di noi ha avuto contezza di, diciamo, di vincoli che a volte sono stati messi a posteriori e essendo questi vignetti eroici e storici disciplinati non solo dal Ministero delle Politiche Agricole, ma nel decreto, è un decreto interministeriale, a firma Ministro delle Politiche Agricole, ma anche Ministro dell'Ambiente e Ministro della Tutela del Paesaggio e della Cultura. Quindi la nostra preoccupazione, un po' anche del sistema delle regioni, quando abbiamo scritto quel decreto, era che fosse volontario proprio perché non si sa mai che una volta che avremmo ridato questo elenco poi dopo ci possono essere eventuali vincoli successivi, qualche ente magari che lavora sul paesaggistico, sulla programmazione territoriale, vedendo un bel elenchino con foglio, mappale, questo vigneto che è di 50 anni, è storico, che poi dopo gli metto un vincolo che non lo può mai più abbattere. Questo per spiegare del perché una domandina va fatta. Allo stesso tempo, noi crediamo che, insomma, di avervi messo nelle condizioni di farla abbastanza rapidamente e quindi era necessario darvi comunque, farvelo vedere, poi dopo, visto che abbiamo anche l'occasione di avere gli informatici che gestiscono questo programma, che a volte, sì, vi dà tante preoccupazioni, le dà anche a noi, ma devo anche ammettere che il numero di anomalie è calato drasticamente, insomma, negli ultimi mesi, quindi tutto sommato, insomma, vuol dire che ci siamo tarati bene. Comunque è l'occasione, diciamo, di un confronto, ecco, che a volte credo che per me è utile sia da tutti, nel senso che noi, i nostri interlocutori, siete voi, tanto i CA quanto gli STACP, per cercare ovviamente tutti di lavorare nel miglior modo possibile. Il riconoscimento di vigneti eroici e storici dirà, dice il decreto, che ha finalizzato di fatto a chiedere dei contributi, che oggi saranno previsti dalla misura di strutturazione dei vigneti, anche se a nostro avviso è improprio, nel senso che alla fine uno che avrà un vigneto storico potrà cambiare cosa può fare, può giusto cambiare dei pali, dei fili, ma insomma non è un gran intervento, ma la finanziabilità sulla misura di strutturazione dei vigneti non è scontata che ci sia nel prossimo bando 2023, l'ultimo della programmazione del PNS 2019-2023. Misura che si riproporrà dopo il 2023, che sicuramente lì troveranno finanziamento, perché il decreto lo prevede, quindi da qualche parte di sicuro prima o poi li finanziamo, noi certo per poterli finanziare dobbiamo avere un elenco e riconoscervi. Quindi io direi che per adesso l'ho tenuto abbastanza, ho voluto darvi un attimo l'inquadramento, è ovviamente per noi che seguiamo una materia così complessa, permettetemi di dirlo una piccola cosina, ecco, che sì, lo facciamo, perché ovviamente è un adempimento, si deve fare, c'è chi ci crede, anche noi, però c'è tutto il resto che è ben più complesso. E quindi io darei, chiederei quindi a Giulio, adesso io interrompo la condivisione della presentazione, di prepararsi a condividere lui lo schermo e quindi la presentazione, così che possiamo andare contemporaneamente subito all'analisi del testo della delibera. Il collega che vi parlerà, il dottor Crisi Giovanni, fa parte del cosiddetto Accriviti, che è questa cosa strana, che in realtà è solo una mail, ovviamente che la leggiamo, è sottoscritto, Marchi Agnese, che l'avete sentita prima, che sta curando la registrazione, il dottor Crisi Giovanni, Giulio, e la dottoressa Parisi Valentina. Quindi Giulio, quando sei pronto, condividi pure lo schermo e ovviamente la presentazione, così come i video registrati, la presentazione, le potrete scaricare direttamente dalla chat, diciamo, di questo incontro. E poi i video che registreremo oggi, anche la presentazione, la troverete anche sul sito internet, così da dare comunque massima divulgazione. Prego Giulio. Innanzitutto buongiorno a tutti, vedo alcuni nomi di persone che ho avuto modo di riconoscere, incontrare, sono qui all'ufficio viticolo con i colleghi solo da marzo, quindi sto cominciando pian piano a conoscervi. Grazie al dottor Armuzzi e a Marco Ziribotti per l'introduzione. Passerei direttamente, quindi, alla condivisione della presentazione, nella quale abbiamo cercato di... si sente molto male. Non so se sono l'unico. È un po' bassi Giulio, sì. Provo ad alzare un po'. Sì, magari tiene un po' più vicina la barretta del microfono. Arrivo, eh. Mi sentite meglio adesso? Io come prima. Come prima. Provo a cambiare cuffie e vedere se... Confermo. Provo a cambiare cuffie e vedere se queste funzionano. Si sente un po' meglio. Mi sentite meglio adesso? Più o meno. Mi spiace deludere, ma è come prima, però cercheremo di stare più attenti. Provo ad avvicinare il più possibile il microfono. Mi piace. Allora. Provo a parlare un po' più forte. Spero che si possa sentire meglio. Sì, adesso si sente meglio. Ok, perfetto. Allora, passo alla presentazione della delibera, che è stata approvata il 24 agosto 2021, al numero 1340. Il titolo è approvazione delle disposizioni per il riconoscimento e l'iscrizione nell'elenco regionale di vigneti eroici o storici, in attuazione dell'articolo 7 della legge 238 del 2016 e del decreto numero 6 899 del 30 giugno 2020. Infatti, come vediamo da queste prime slide, un po' di riferimenti normativi. Abbiamo il nostro testo unico del 2016, l'articolo 7, nominato salvaguardia dei vigneti eroici o storici, che introduce per la prima volta questo tema e dà un po' di farinatura generale e delega, diciamo, poi al successivo decreto interministeriale di cui parlava prima Marco, all'inquadramento di requisiti un po' più dettagliati. Il decreto, in particolare nell'articolo 5, abbiamo messo in evidenza la competenza delle regioni, quindi in questo articolo viene disposto che le regioni stabiliscano le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento, svolgano le istruttorie e pubblichino l'elenco dei vigneti riconosciuti e provvedano poi allo svolgimento dei controlli e degli interventi per i quali saranno erogati i contributi. Come diceva Marco, quindi è solo un percorso nazionale, l'Unione Europea questa volta non c'entra, passando diciamo al cuore della presentazione della delibera, abbiamo qui rappresentato un po' i requisiti per il riconoscimento dei vigneti eroici, che forse viene meglio con questa tabella doppia entrata per capire un po', perché è abbastanza contorto già in uscita dal decreto, noi abbiamo mantenuto la struttura del decreto e cercherò adesso di semplificare forse un po' le cose. Dunque il decreto dà nell'articolo 2 delle definizioni che sono anche abbastanza interpretabili, per cui i vigneti eroici sono vigneti che possono essere, che sono situati in aree soggette a rischio di discesso idrogeologico, aree ove le condizioni orografiche creando impedimenti alla meccanizzazione, aree a venti particolari pregio paesagistico e ambientale e su piccole isole. Questo articolo 2 però va letto insieme all'articolo 3, che stabilisce dei criteri più precisi, con meno discrezionalità diciamo, per cui queste aree hanno una pendenza maggiore del 30%, un'altitudine maggiore di 500 metri sul livello del mare, ad esplosione degli alti piani però, sistemazioni su terratte e gradoni e ancora su piccole isole. Quindi diciamo che ci vuole almeno un requisito, almeno una definizione, diciamo così, e unita ad almeno un criterio. Cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo dettagliato le condizioni orografiche che secondo noi creavano impedimenti alla meccanizzazione, esplicitando quindi che avessero una pendenza maggiore del 30%, aumentano altitudine maggiore del 500 metri, in tal modo da semplificare un po' l'incrocio dei dati, perché possiamo osservare a questo punto la pendenza, i vigneti, diciamo le UNAR, situate in terreni con pendenza maggiore del 30%, altitudine maggiore a 500 metri, e su piccole isole, che noi non abbiamo, e automaticamente possono essere riconosciuti come vigneti eroici. Mi rendo conto che è un po' complessa, provo con questa slide a semplificare un po'. Quindi in sintesi possiamo dire che i vigneti con pendenza media maggiore del 30%, altitudine media maggiore del 500 metri sul livello del mare, o situati su piccole isole, che comunque non è il nostro caso, possono essere riconosciuti come eroici. Al di fuori di queste casistiche possono essere riconosciuti eroici solo i vigneti situati su terrazze o gradoni, se guardate in basso alla tabella l'ho semplificata a questo punto, che ricadano o all'interno di aree soggette a rischio di discesso idrogeologico, oppure all'interno di aree avente particolare pregio paesaggistico e ambientale. Per quanto riguarda queste due tipologie di aree, le aree soggette a rischio di discesso idrogeologico sono mappate dalla regione, quindi riusciremo automaticamente a riconoscerle, diciamo. Per quanto riguarda le aree aventi particolari pregio paesaggistico e ambientale, insieme ai colleghi dell'ambiente abbiamo identificato che sono le aree che vengono individuate già nel piano paesistico territoriale e regionale e quindi anche dai successivi piani territoriali di coordinamento provinciale. Per quanto riguarda invece i vigneti storici, ci sono varie possibilità, intanto i vigneti storici sono quei vigneti la cui presenza è segnalata in una determinata superficie o particella in data antecedente al 1960. Faccio notare, e l'ho messo anche in evidenza, che la presenza è segnalata, quindi noi abbiamo interpretato in maniera ampia e quindi anche i vigneti che vengono in un secondo tempo estirpati e poi reimpiantati nella medesima superficie possono essere riconosciuti come storici. Se però unitamente a questo criterio dell'annata, diciamo, della data antecedente al 1960, devono anche presentare o una forma di allevamento tradizionale oppure una sistemazione idraulico-agraria. Per l'individuazione delle forme di allevamento tradizionali è stato contattato e messo in piedi un team di esperti che rappresenta anche la ricerca, l'università e anche il mondo del libero professionismo e sono state individuate queste forme di allevamento che vedete qui elencate. Per quanto riguarda invece le sistemazioni idraulico-agrarie, qui non c'era assolutamente possibilità discrezionale perché erano già indicate nel decreto nazionale, a livello nazionale. Quindi questa è una prima possibilità per i vigneti storici. A prescindere invece dalla data, possono confluire nei vigneti storici anche tutti i vigneti che sono appartenenti a paesaggi scritti nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico, a siti UNESCO, oppure ancora ricadenti in aree oggetto di specifiche leggi regionali o individuate da piani paesaggistici. Queste ultime tre tipologie devono avere comunque centrale l'idea della viticoltura, quindi deve comunque la viticoltura essere l'oggetto della tutela individuata dal sito UNESCO piuttosto che dal Registro Nazionale dei Paesaggi, piuttosto che da specifiche leggi regionali. Scusa un attimo Giulio, che integro una cosa. Allora, come avete visto, se noi non abbiamo al momento paesaggi scritti nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico in cui la viticoltura costituisca la motivazione di iscrizione, o almeno, che abbiamo visto noi, non ce ne sono. Sappiamo, per dire, un paesaggio che era stato candidato, come le famose vigne sulla sabbia con piede franco, che si era candidato. Ecco, lì, in quel caso, la candidatura era basata proprio sulla viticoltura. Se fosse stata ammessa la candidatura e accolta dal Ministero, dalla Rete Rurale Nazionale, sarebbe sicuramente tutti i vigneti lì dentro, sia prima del 1960, ma anche piantati quest'anno, per dire, sarebbero tutti storici in automatico. Quindi ci sono, in quel Registro Nazionale, che l'ho trovata nel sito della Rete Rurale Nazionale, ci sono dei paesaggi non tanto nostri, come della Valtellino o del Veneto, che sono prettamente viticoli, e quindi loro, per dire, avranno tutti i vigneti lì dentro, vecchi, nuovi, non importa più la data, sono tutti riconosciuti storici. Siti UNESCO sono stessa cosa, cioè non è che uno ha un vigneto dentro un sito UNESCO per un'altra motivazione in automatico e storico. No, si deve riferire l'iscrizione, cioè l'iscrizione al sito di quell'area deve essere dovuta e imputabile alla viticoltura. Sulle forme d'allevamento, invece, noi abbiamo, alla fine, più o meno è rimasto quello, ecco, il percorso che abbiamo fatto, visto che questa era una scelta regionale, è stato di, appunto, avere questo gruppo di esperti vitivinicoli, riconosciuti un po' da tutti voi, faccio un esempio, tanto dal dottor Nigro del CRPV, che per tutti i ca' fa sempre le relazioni, ad esempio, per autorizzare l'arricchimento dei vini, ad altre personalità dell'università o del mondo scientifico, e più o meno loro avevano individuato questi. Poi, come tutte le scelte regionali, sono state sottoposte al vaglio, ovviamente, della consulta agricola. Se vi ricordate, a febbraio scorso, mi sembra che ne avessimo accennato, vi avevamo dato l'opportunità, già in quella sede, unitamente ad altre questioni viticole, di esprimere il vostro parere. Sono arrivati vari pareri, alcuni di allargare, alcuni di mettere dentro il guiovo, altri, altre forme d'allevamento. La scelta è stata quella di limitarci a forme d'allevamento storiche e anche che non siano, perché se mettevamo dentro il guiovo, tanto per dire, entravano la buona parte dei vigneti attuali. Quindi, questo perché alcuni di voi, alcuni ca' avevano anche chiesto di limitare le forme d'allevamento a quelli, effettivamente, diciamo, di interesse storico e magari meno meccanizzabili di altri. Questo era quello che volevo aggiungere. Vedo che c'è la collega Sonia Pogliaroli che vuole... No, chiedevo se preferite, non è una domanda, volevo chiedere un dettaglio subito su questo argomento o se alla fine... È indifferente. Se l'avete, ditecele che così siamo qua. No, c'è nel senso, se potevate spiegarmi meglio, cioè il discorso che Giulio ha appena accennato, la scelta regionale del discorso relativo a storico, antecedente agli anni 60, quindi se è un vigneto vecchio, oppure se... Sì, purtroppo... Adesso sì. Vai, vai. Il discorso è che, a nostro avviso, storico era solo un vigneto piantato prima del 1960. In realtà il Ministero, soprattutto su pressione del Ministero della Tutela del Paesaggio, ha ritenuto che anche un vigneto che era stato, era presente nel 1950, che poi nel 1970, 80, 90, è stato estirpato e reimpiantato nello stesso sito con le medesime caratteristiche, quindi medesima forma di allevamento, oppure su terreni avente la stessa sistemazione indraulica agraria, è comunque da riconoscersi come storico, ma deve comprovare... E quindi lo preciserete dopo, com'è la dimostrazione del fatto che lì ci fosse antecedente? Anzi, dopo arriveremo all'istruttore... Ok, perfetto, grazie. Scusate. Possiamo anticipare che il problema di questo tipo di vigneto, che è stato estirpato e reimpiantato, un vigneto storico, ante 1960, che è stato estirpato e reimpiantato, dovrà dimostrare con... e ci sono degli esempi anche nella delibera con cartografia ufficiale o con... o altre documentazioni ufficiali di enti pubblici, per lo più, o fotografie, ma allora nel 1950-60 si fa veramente fatica, e quindi dubito che ci siano tanti casi che riescono, diciamo, a superare il vaglio dell'istruttoria, ma o ci può stare, quindi dovranno documentare appunto che è un vigneto che allora era presente e che oggi ha le stesse caratteristiche tecniche di allora. Purtroppo, a mio avviso, da tecnico, se il Ministero chiudeva questa possibilità, era meglio, perché ci complichiamo solo la vita, noi e voi. Però purtroppo, vi ripeto, essendo più firma, la tutela del paesaggio ha comunque detto no, ma per me l'importanza è anche importante avere quel vigneto che era tradizionale, averlo anche oggi, se nel frattempo è stato estirpato e reimpiantato. Essendo interministeriale, come solito, poi alla fine si trovano delle mediazioni e però a volte creano anche dei piccoli aborti, a mio avviso. Prego. Allora, passiamo quindi alla modalità di presentazione della domanda, le condizioni di ammissibilità. Dunque, quindi, chi può presentare domanda? Qualsiasi conduttore di vigneti che sono qualificabili come eroici o storici in base a requisiti che abbiamo appena esposto. La domanda di riconoscimento, come vi illustrerà poi Francesco, verrà inoltrata sul Silas e dovrà avere all'oggetto una o più unar che devono essere ricadenti sul territorio regionale, devono essere già presenti a sistema nello schedario viticolo e prive di anomalie. Il richiedente al momento della presentazione della domanda deve risultare iscritto allo schedario vitivinicolo, risultare iscritto all'anagrape regionale dell'azienda agricole e avere indicato un indirizzo valido di PEC all'interno dell'anagrape. Dunque, la procedura, abbiamo individuato quattro sessioni all'interno dell'anno e potrà essere fatta massimo una domanda per ogni sessione e si sceglierà se nella procedura per la domanda si sceglierà se si richiederà riconoscimento di un unar per il vigneto eroico, per storico o anche per entrambe le possibilità, perché ovviamente un vigneto potrebbe avere caratteristiche di entrambe le tipologie. Qui vedete le date scaglionate nell'anno delle sessioni appunto previste, generalmente la terza sessione che comincia il primo luglio termina il 30 settembre, ma per quest'anno, dato che la delibera è stata approvata in agosto, abbiamo slittato al 15 ottobre la chiusura di questa sessione, mentre l'ultima sessione a questo punto sarà dal 16 ottobre al 31 dicembre. Qui abbiamo evidenziato la solita... Sì? Ok. Sì, aggiungo... Scusami Giulio, prima che parli della rinuncia, qua effettivamente c'è una novità rispetto a quello che avevamo presentato, oltre che il passaggio in consulta sulle scelte di febbraio scorso, vi abbiamo mandato ai primi di agosto la bozza della delibera. Ovviamente, la bozza di delibera che abbiamo previsto noi, come al solito, io non sono tanto legale, anzi, di solito facciamo a cazzotti con i colleghi giuridici, ma vabbè, insomma, ci sta. Io sono un tecnico, loro sono un giuridico, quindi abbiamo ambiti che a volte si confrontano bene. Quindi abbiamo dovuto, diciamo, cambiare quello che prevedevamo noi. Noi avevamo previsto, se vi ricordate bene, in un unico band annuale, però oggettivamente, da un punto di vista amministrativo, e noi ovviamente abbiamo condiviso, le domande che veniva presentate il 16 di ottobre, dove aspettare un anno, abbiamo quindi ideato queste quattro scadenze, che così, anche crediamo, che anche per voi, che diciamo, avete più tempo, se per caso al 15 di ottobre, perché siete ingolfati, con i soliti 3.000 provvedimenti, che avete da fare, non ce la fate, vabbè, non è che muoia nessuno, probabilmente anche per la sessione successiva, riuscirete, se mai dovessimo finanziarli, già dalla ristrutturazione Bando 2023, riuscirete comunque a presentare la domanda di riconoscimento del vignette eroico storico, che non so, il 16 di ottobre, il 20 di ottobre, e tranquillamente, riuscire a fare la domanda, nell'annualità 2023, che pur volendola anticipare, credo che comunque il bando a febbraio 2022, sarà ancora aperto, posto che riusciamo ad anticipare, quindi questa è una piccola differenza, che abbiamo dovuto introdurre, che non vi abbiamo comunicato, ma perché è un adeguamento, ad un obbligo amministrativo, che non può prevedere tempi di procedimento così lunghi. Al contempo non abbiamo voluto fare, come qualche altra regione sta pensando di fare, di mettere solamente 30, 60, 90 giorni dalla presentazione della domanda, per completare l'istruttoria e aggiornare l'elenco, perché come vedrete, le domande vengono sottoposte a controlli in loco, e questo avrebbe aumentato a dismisura i controlli in loco, per un procedimento che a nostro avviso, non ne va la pena, provane sia che poi se lo metterete a finanziamento, sulla ristrutturazione, i controlli sono al 100%, quindi verrà anche ricontrollate le caratteristiche del vigneto eroico storico. Prego Giulio, scusa. Dunque, la listanza di rinuncia è inoltrabile tramite PEC, al solito indirizzo, che ho qui sottoscritto, passando invece alla procedura, scusate, passando agli allegati della domanda, andranno inseriti, questo si vedrà benissimo anche con Francesco, nella simulazione, quindi almeno 4 foto attuali, per ognuna delle una, al oggetto di richiesta, il documento di identità del richiedente, la marca da bollo, questi tre sono, diciamo, obbligatori per tutti, e poi ci vorrà il consenso del proprietario, solo ovviamente se il conduttore non è il proprietario esclusivo dell'EUNAR, oggetto di richiesta, e nel caso invece di, nel caso in cui si chiede, si chiede riconoscimento per aree a 20 particolari pregio paesaggistico e ambientale, appartenenti a paesaggi iscritti al Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico, siti UNESCO, oggetto di leggi regionali o piani paesaggistici, che sono più o meno tutte le casistiche per cui non c'è un controllo automatico dai nostri database, a quel punto verrà richiesta anche una dichiarazione sostitutiva del lato notorio con indicazione dei riferimenti normativi. Similmente, nel caso si richieda riconoscimento di vigneti estirpati e reimpiantati dopo il 1960 di cui parlavamo prima, occorrerà integrare con una documentazione cartografica o altra documentazione ufficiale e nel caso in cui si chieda il riconoscimento per UNAR collocate su terrazze e gradoni o con sistemazione idraulica agraria e storica, chiediamo anche una specifica documentazione fotografica su appunto che testimoni che documenti questi aspetti. Per quanto riguarda l'istruttore e l'adozione dei provvedimenti, le domande verranno istruite entro 60 giorni dal termine di ognuna delle quattro sessioni che abbiamo visto prima e in particolare il servizio di organizzazioni di mercato e sinergia di filiera verifica inizialmente la completezza e la regolarità delle domande pervenute, richiede eventuali integrazioni e quindi ricordo il conduttore deve dare riscontro entro dieci giorni appena alla decadenza della domanda esperisce gli adempimenti previsti dalla legge in merito al procedimento amministrativo per le domande non ammissibili quindi il cosiddetto previsto di rigetto e quindi estrai per ogni sessione istruttoria un campione del 5% delle domande protocollate che verranno sottoposte a controllo in loco quindi trasmette il relativo verbale ai servizi territoriali i quali entro 45 giorni dalla trasmissione del verbale effettuano i controlli e redingono i relativi verbali gli inviano di nuovo al servizio centrale organizzazioni di mercato e sinergia di filiera il quale assume l'atto che dispone il riconoscimento dei vigneti eroici o storici pubblica l'atto sul Burert sul bollettino telematico ufficiale intendendo così assolti gli obblighi di comunicazione ai beneficiari quindi aggiornano schedario viticolo con le nuove informazioni relative alle UNAR che hanno acquisito questa la storicità o l'eroicità diciamo e quindi rende disponibile l'elenco regionale dei vigneti eroici storici aggiornato sul sito internet regionale agricoltura caccia e pesca ok Giulio ti interrompo un attimo allora torniamo un attimo sugli allegati perché volevo spiegare alcune cose allora sul consenso del proprietario ci abbiamo ragionato un bel po' e poi anche con le altre regioni e su questo siamo tutti d'accordo anche con le altre regioni che ancora non sono uscite ma usciranno prossimamente perché lo chiediamo? teoricamente potevamo anche chiederlo il fatto però che questo vigneto vada iscritto in un elenco che per disposizione di decreto non per scelta della regione va pubblicato e per la conseguente eventuale un domani risvolto che questa pubblicazione potrebbe avere preferiamo che il proprietario sia informato un eccesso di zelo non lo so però insomma diciamo che a volte è meglio insomma che se ci sono dei problemi è meglio che si chiariscono subito vedrete che ci sarà una volta riconosciuti anche la possibilità l'abbiamo previsto di cancellarsi e basta una PEC quindi però insomma noi abbiamo fatto questo ragionamento sulla dichiarazione di sostitutile di atto notorio diciamo è abbastanza semplice ci dovete indicare esattamente quale di queste altre motivazioni è il riferimento che per cui voi o meglio i vostri associati chiedono il riconoscimento perché poi saremo noi andare a prendere quella documentazione e andarla a verificare le foto abbiamo messo un po' di foto perché un tratto dopo nella delibera c'è scritto una foto un po' più insieme una foto più dettagliata che verifichi a seconda ovviamente essendo un campione al 5% le foto preciso intanto non devono essere geotaggate sappiamo che potevano essere un problema anche qua è un procedimento che poi alla fine non ce lo chiedono tanto un minimo di controllo le abbiamo previsti quindi le foto ci servono per ridurre al minimo la percentuale di controlli perché comunque i controlli non li facciamo noi questa è una novità che non vi ho detto prima è l'unico procedimento che ha in carico questo servizio centrale i colleghi dei servizi territoriali abbiamo pensato bene di dispensarli ovviamente essendo loro sul territorio tutti i giorni nelle aziende in un'ottica anche di limitare insomma la presenza di controlli abbiamo chiesto a loro di farci controlli in loco che però sono abbastanza semplici speditivi quindi devono venire a vedere che il vigneto ci sia che più o meno la superficie sia quella che è iscritta in schedario e che abbia quella forma di allevamento se è dichiarato la forma di allevamento per la storicità oppure che effettivamente c'è quelle sistemazioni idraulico agrarie se è indicato quella diciamo che le foto ci servono un attimo ci aiutano a capire meglio il contesto poi vai sulla slide dopo che forse mi è venuta un'altra cosa no ecco l'unica cosa siamo noi che facciamo tutta l'attività istruttoria quindi i colleghi ci ho tenuto che ci fossero degli stacipi perché è giusto che io credo che lavorando sul settore del vino almeno debbano saperlo così che comunque i vostri colleghi quando si rapportano con i colleghi del territorio possono anche fare domande anche a loro ma poi alla fine le domande tutta l'istruttoria competa a noi tranne il controllo in loco prego Giulio quindi passiamo a una slide che riepiloga un po' ai vari controlli quindi controlli amministrativi che si tratta quindi di verificare l'ammissibilità e viene fatto sul 100% delle domande i controlli in loco che abbiamo appena visto ad opera di lista cipi e quindi la verifica della regolarità rispetto alla normativa vigente che vengono fatti a campione e poi ci sono i controlli ex post dove si verifica la sossistenza dei requisiti nel tempo e anche questi a campione ai sensi dell'articolo 31 del regolamento di esecuzione il 274 del 2018 la revoca del riconoscimento e la cancellazione dall'elenco è possibile su specifica richiesta del conduttore tramite PEC oppure in seguito ad esito negativo dei controlli entro 45 giorni il servizio centrale provvede a cancellare le unare in questione dall'elenco e ad aggiornare quindi lo schedario questa invece Marco era la tua promemoria ho finito di esaminare la delibera se volevi parlare dei punti Marco ah scusate stavo parlando ma avevo il microfono aspetto chiedo scusa ho visto che c'è una mano alzata sentiamo da Lorenzo Zibordi se non mi spazio grazie solo un chiarimento se può tornare alla slide precedente quella della cancellazione si fa riferimento solo al conduttore forse è il caso di inserire anche il proprietario a questo punto per i motivi che accennava prima no riteniamo di no perché comunque il vignetto è in gestione solo al conduttore il proprietario può rifiutarsi non dando il consenso all'iscrizione cambia l'idea però se cambi idea però insomma noi abbiamo previsto che la cancellazione abbia sempre il consenso del conduttore però insomma se cambi idea è un rapporto più privatistico noi abbiamo fatto anche il ragionamento se poteva essere il proprietario a fare domanda ma oggettivamente in questo caso non mi sembra né corretto nei confronti del conduttore quindi non l'abbiamo previsto e noi rimaniamo che uno quindi forse è meglio che se avete da gestire dei proprietari e se avete visto che alcuni alcuni proprietari si appoggiano anche a voi beh insomma magari glielo dovete chiarire bene l'aspetto di quello che può andare incontro però non posto il fatto che il nostro sistema vi ricordo pesca i dati dall'anagrafe e i proprietari di solito in anagrafe non ci sono mai quindi per una rinuncia di un vigneto eroico e storico che magari è dato a cuor leggero dovrebbe ovviamente iscriversi in anagrafe e io eviterei ecco meglio che ci pensi prima ovviamente se poi uno viene a sapere che vedendo il suo vigneto che è iscritto e lui non ha mai dato il consenso ovviamente non siamo in queste condizioni perché se siamo in queste condizioni ci manda la segnalazione e noi procediamo con la segnalazione alla procura a fare tutto quello che dobbiamo fare ma non è questo se uno cambi idea insomma cavolo che ci pensi meglio prima questa purtroppo cioè la vedo più complicata che non per che è molto più teorica se cambi idea ne parlerà col conduttore quagliaroli Sonia no forse nessuno ha già risposto scusa cioè vabbè lo dico però ho dimenticato di togliere la mano ovviamente verranno segnalati in schedario ci sarà che ne so sì ci siamo dimenticati di dirlo cioè noi chiudiamo l'istruttore aggiornando l'informazione nello schedario no qui c'è scritto nell'armi sì sì abbiamo già previsto che poi quelle stesse identiche informazioni saranno poi anche un domani perché oggi nel decreto dello schedario viticolografico non ci sono ma saranno anche previste lì quindi in modo tale che al pari oggi la menzione vigna non c'è neanche ancora in schedario però sono quelle informazioni che essendo in elenchi dopo andranno in schedario e quando uno chiede la cancellazione saremo sempre noi che come l'abbiamo iscritto cioè come abbiamo segnalato spuntato il flag vigneto eroico storico o tutti e due perché può esistere il caso di un vigneto sia eroico che storico andremo a cancellarlo ecco a seguito della cancellazione altre domande su questa parte altrimenti vediamo come si compila la domanda allora interromperai la registrazione ok la riprendiamo dopo quando ci saranno gli aggiornamenti su sul sì l'altra parte e grazie